ciao a tutti oggi prepareremo il caffè al cucchiaio il tempo di preparazione della ricetta è di circa 10 minuti più il tempo di raffreddamento gli ingredienti sono caffè caldo amido di mais zucchero di canna e whisky i quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it diamo il via alla ricetta andiamo a preparare il nostro caffè dopo aver preparato il nostro caffè bollente andiamo a polverizzare lo zucchero andiamo a posizionare lo zucchero all'interno del boccale e andiamo a polverizzarlo per 10 secondi a velocità 10 prendiamo sul fondo lo zucchero e andiamo ad aggiungere il nostro caffè il whisky e amalgamiamo il tutto per un minuto a velocità 4 adesso aggiungiamo l'amido di mais e cuociamo il tutto per 8 minuti 100 gradi velocità 3 il nostro composto è quasi pronto andiamo a trasferire in dei bicchierini dopo aver versato il composto all'interno dei nostri bicchierini andiamoli a posizionare in frigo per almeno due ore caffè al cucchiaio grazie e alla prossima ricetta a 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 Grazie a tutti.